io sono il signore tuo dio che ti ha fatto uscire dal paese di egitto le espressioni non avrai altri dei di fronte a me non rivela il concetto di un dio potente e dominatore io e basta no è invece un concetto di amore e di preoccupazione vuole che l'uomo creato e amato da lui sia sempre fedele al suo amore cioè un'attenzione di amicizia tra dio padre e la creatura figlio il rapporto di amicizia sperimenta una situazione drammatica l'uomo ostinato nel pecare e dio nel perdonare e voi facilmente potresti dirmi ma è mai possibile questo ma trattiamo di dio che è infinito nella sua misericordia il primo comandamento dice io sono dio tuo non avrai altro dio fuori di me il comandamento in sostanza esprime il concetto matrimoniale io e tu tra me e te non ci deve essere un'altra persona questa nella vita matrimoniale ciò dice dio di sé rispetto alla creatura io e tu tra me e te nessuno noi due sempre per l'eternità che bello ma questo è il concetto di dio è il progetto di dio su chi per me semplice creatura per me che sono mare peccatore che sono infedele che bestemmio che 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 non ragiono che non ne voglio più sapere di religione dio dice io e tu solo noi due tra me e te nessun altro il decalogo viene donato da dio come norma di comportamento perché la creatura cammini nella giustizia e nella libertà se ancora oggi piuttosto si trova nella realtà della vita dell'uomo ci sono ingiustizie latrocini bombardamenti guerre guerriglie c'è sempre il malessere e non c'è il senso della pace nonostante le tante preghiere perché tutto questo perché al dio io assoluto al dio assoluto si scelgono altri dei che possono essere le passione possono essere divertimenti possono essere l'inconcorrenza della vita l'assenteismo e tanti difetti della vita dell'uomo e quindi se per ipotesi tutti gli uomini scegliessero come norma di vita e la mettessero in atto non ci sarebbero più le guerre non ci sarebbe più l'invidia non ci sarebbe più la mormorazione il latrucinio eccetera avremmo il paradiso terrestre su questa terra Allora Allora Iscriviti al canale